buonasera a tutti cari colleghi bentornati sul canale sul banco un bel amplificatore della sony per impianti televisivi nello specifico modello sa trattino ct 260 h quando c'erano i televisori a tubo catodico avevamo a disposizione un audio che oggi potremmo definire di eccellente qualità e questo era dovuto sicuramente a una geometria degli altoparlanti quindi dei diffusori senza dimenticare la forma stessa del televisore che agiva come se fosse una sorta di cassa armonica qualcosa di molto simile alla chitarra acustica insomma un amplificatore naturale oggi la cassa armonica non ce l'abbiamo più e in più abbiamo degli altoparlanti sui nuovi televisori che fanno veramente schifo per far fronte a questo tipo di esigenza quindi dell'audio dobbiamo aggiungere questo genere di dispositivi questo sotto il televisore poi abbiamo i satelliti poi abbiamo il subwoofer insomma quello che una volta era la cassa armonica del televisore si è trasformato in altro spazio occupato in casa ma a sto punto che l'abbiamo fatto a fare ci tenevamo direttamente i televisori crt si vedevano bene si sentivano bene e soprattutto duravano 30 anni buonanotte il proprietario del dispositivo in questione riferisce la mancata accensione del dispositivo stesso motivo per il quale inseriamo la spina 220 e vi devo dire perché sicuramente non l'avrete notato il neon che sta illuminando il mio laboratorietto ha avuto un leggero bagliore e questo vuol dire che i condensatori da 400 volte dell'alimentatore sono andati in carica quindi già possiamo escludere fusibile e ponte raddrizzatore il guasto sicuramente è nella parte sicuramente parte primaria secondaria dell'alimentatore ma non sull'ingresso dell'energia elettrica proviamo a schiacciare un tasto non succede niente proviamo col telecomando e non succede niente verifichiamo che il telecomando funzioni probabilmente si vede già dal telefono non si vede vediamo un po se il telecomando sembra funzionare vediamo se modula andiamo in ampiezza modulata accendiamo sì il telecomando modula sono sicuro che anche se c'è un po di disturbo si avverte la modulazione del telecomando insomma mancata accensione inoltre questo apparecchio oltre ad accendersi eventualmente col tasto posto sulla plancia ed eventualmente col telecomando può partire anche automaticamente quando riceve il segnale dalla presa hdmi del televisore non possiamo fare altro che passare allo smontaggio utile riprendere tutta quanta la fase di smontaggio si intende un po di viti quelli da portare via cassa smontata alimentatore in questione scheda madre quasi sicuramente qui sotto ci sarà l'amplificatore inoltre stavo notando un particolare vediamo se con la camera riesco ad inquadrare ci provo si abbiamo le tensioni ideali che dovrebbero venire fuori da questo alimentatore della morsettiera quindi partiamo direttamente con un controllo delle tensioni andiamo in scala 50 volt in continua procuriamoci una massa ci scegliamo l'aletta di raffreddamento colleghiamo l'energia elettrica l'energia elettrica inserita il bip non era di questo apparecchio ma di un'altra cosa che ho acceso accidentalmente allora vediamo se ci riesco allora i primi due piedini niente terzo piedino 25 volt ce ne abbiamo circa 26 e mezzo quarto piedino 25 volt anche qui 26 e mezzo poi ci abbiamo 3 massa quindi 1 2 3 massa poi abbiamo la 25 5 abbiamo sempre circa 26 virgola 5 volt andiamo con il penultimo piedino che deve essere sempre 25 5 26 e mezzo e questo sarà sicuramente la stessa cosa ok qualcuno si sta domandando perché le tensioni sono più alte di quello che è scritto sulla tabellina e questo è una cattiva notizia perché vuol dire che la scheda madre non ha assorbimento facciamo una cosa sganciamo l'energia elettrica facciamo nuovamente le misure in maniera rapidissima e vediamo infatti ho sganciato l'energia elettrica come vedete la tensione ancora presente andrà a scemare da qui a poco anche questo qui quindi vuol dire che non abbiamo assolutamente assorbimento elettrico da parte della scheda madre sto controllando tutti quanti pin poi abbiamo 3 massa e quindi di conseguenza se ci fate caso attenzione sta cominciando a scendere perché i condensatori stanno cominciando a scaricarsi quindi manca totalmente alimentazione elettrica sulla scheda madre non dovuta all'alimentatore ma evidentemente dovuta a un circuito di stabilizzazione sulla scheda madre come potete già immaginare queste tensioni poi dovranno diventare anche cinque volte per gli integrati poi dovremmo avere anche delle tensioni duali per la parte di amplificatore quindi c'è un problema sulla scheda madre inizierei con lo smontare la scheda madre facciamo un controllo visivo rimosso qualche connettore la scheda madre è venuta via senza problemi però nel contempo ho acceso l'alimentatore e ho collegato due lampadine inserite a 12 volt e vediamo se l'alimentatore quantomeno sotto assorbimento non venga meno nel suo operato quindi per i due non connessi allora qui si deve accendere ok anche qui ma questi sicuramente sono in parallelo queste uscite però devo fare molta attenzione ok queste poi sono le masse vediamo se ci riesco che è un po difficile farlo in questa maniera qua poi abbiamo i primi due sotto che sono le masse poi abbiamo il 3 ok 4 ok ripetiamo tutto e finisce la storia 1 2 3 masse si deve accendere pure qua ok anche qua ok e anche qua ok quindi l'alimentatore sembra funzionare bene lo faccio lavorare giusto un minutino sotto stress direi di sganciare l'alimentazione elettrica all'alimentatore perfetto vi faccio solo notare che qui sotto c'è ci sono altre due schede delle quali una dovrebbe essere la scheda del display e l'altra dovrebbe essere la scheda del bluetooth visto che questo apparecchio dispone appunto anche del bluetooth per le varie comunicazioni con le periferiche schede a banco cari amici ho solamente smontato l'aletta di raffreddamento sul finale dell'amplificatore in modo da avere più spazio per analizzare il circuito vi ricordate da qui entravamo con le tensioni le trovate scritte lì sopra queste bobine e questi condensatori per il momento a noi non interessano che fanno parte solamente dell'uscita finale delle casse quello che invece di più potrebbe interessarci sono due tre zone anzi forse quattro che ho già individuato dobbiamo cercare di capire come funziona questa parte di circuito qui se ci fate caso quando abbiamo condensatore bobina altro condensatore quasi sicuramente lì giù abbiamo un velo stabilizzatore di tensione anche da quest'altra parte se analizziamo bene cerco di ecco qui abbiamo sempre condensatore bobina e integratino sotto che quasi sicuramente anche esso farà parte del circuito di stabilizzazione non per ultimo però scusate il gioco di parole se ci fate caso no non si vede però ve lo dico io questi qui sono due L1117 quindi anche questi qui sono due stabilizzatori di tensione adesso mi toccherà studiare senza manuale perchè appunto ancora non ce l'ho e dobbiamo individuare quali saranno i punti da dover misurare sotto tensione appunto nel verificare che gli stabilizzatori di tensione funzionino bene la cosa più semplice è quella di misurare direttamente sotto i condensatori appartenenti a quel tipo di circuito di stabilizzazione però ci sono anche altre misure che dovremmo fare motivo per il quale mi devo mettere poi un attimino giù nello studio ho il sospetto che questo processore sia l'artifice di tutto ma purtroppo senza schemi e manuali servizio altro al momento non so dirvi motivo per il quale mi metto a studiare con la speranza di riuscire a tirare fuori qualcosa un particolare che può esserci utile è questo qui nella parte posteriore dell'apparecchio è presente questa schedina che in effetti non è niente altro che una basetta con dei led montati se andiamo a leggere sulla descrizione dovrebbe essere visibile dalla camera led di stand by e a noi manca anche l'illuminazione dei led di stand by quindi mi metto al lavoro con la speranza di riuscire a capire qualcosa a che punto siamo amici siamo al punto che manuali 100% non li ho trovati però sono riuscito a capire qualcosina in modo da poter andare avanti con la Diane cercherò di sintetizzarla meglio che si possa fare allora delle due uscite da 25 volt che abbiamo sull'alimentatore in effetti ne abbiamo di più ma poi sono in parallelo fra loro una parte finisce su questo mosfet accende e spegne completamente la parte amplificatore almeno voglio sperare che sia così l'altra parte invece finisce su questa prima zona di step down quindi questa prima zona di stabilizzazione di tensione in che modo tra poco lo vedremo e a me se è concesso che funzioni questa zona di prima stabilizzazione poi l'energia viene trasferita agli altri stabilizzatori che produrranno le varie tensioni più basse quindi cosa dobbiamo misurare noi? dobbiamo misurare l'ingresso dimenticavo un particolare la 25 volt proveniente dall'alimentatore passa prima per questo condensatore di filtro in ingresso allo stabilizzatore in uscita allo stabilizzatore bobbina e condensatore di uscita dopo di che appunto l'energia viene consegnata al resto motivo per il quale faremo una misura sotto questo condensatore poi vedremo se in uscita c'è presenza di tensione quindi all'uscita di questo stabilizzatore poi misureremo sulle uscite dei due L1117 che sono ulteriori stabilizzatori di tensioni e poi verificheremo le tensioni anche sotto questi due condensatori e come funziona il primo stabilizzatore di tensione? in maniera molto sintetica l'energia dall'alimentatore viene filtrata dal primo condensatore che abbiamo detto poi viene destinata all'integrato di stabilizzazione attraverso una serie di accessori che sono intorno a lui quali vari condensatori di resistenza eccetera eccetera in uscita abbiamo la bobbina che abbiamo già visto e poi accompagnata dall'altro condensatore di stabilizzazione si ma questo integrato però ha un on off che significa che può essere pilotato per essere acceso ed eventualmente spento esempio se ci fosse un processore che volesse pilotare questo integrato nella sua accensione e spegnimento si servirebbe di un piedino specifico che tra poco andiamo a vedere ma nel caso specifico è configurato sempre in on quindi l'alimentazione in ingresso passa attraverso una resistenza finisce su questo piedino quindi da un fronte alto all'integrato tenendolo sempre acceso motivo per il quale sotto questo stabilizzatore di tensione quindi all'uscita dello stabilizzatore di tensione nel momento in cui inseriamo la spina 220 dobbiamo trovare energia elettrica a tutti gli effetti carissimi colleghi l'integrato è sotto sopra rispetto alla nostra posizione motivo per il quale ho girato anche la sua pedinatura comunque dobbiamo andare a misurare sicuramente la tensione in ingresso all'integrato che è il piedino numero 2 e poi dobbiamo misurare il piedino numero 3 che sarà l'uscita da non dimenticare il discorso dell'enable quindi dell'abilitazione al funzionamento dell'integrato quindi l'enebole in questo caso si trova sul piedino numero 7 quindi da quest'altra parte anche qui dovremmo misurare qualcosa non dico 25 volt forse qualcosa in meno calcolando il fatto che abbiamo una resistenza posizionata non ne so di preciso il valore per dare un po' di freno a questa tensione se abbiamo la stessa tensione pari all'ingresso vuol dire che l'integrato stesso non assorbe energia e quindi non funziona quindi diamo alimentazione elettrica e cominciamo a prendercela con l'integrato di stabilizzazione diamo energia l'energia l'abbiamo appena data quindi cominciamo con l'ingresso sull'integrato l'ingresso sull'integrato passa anche sotto il condensatore quindi tensione presente sotto il condensatore in ingresso quindi qui ci siamo me lo aspetto anche in ingresso sull'integrato quindi piedino numero 2 ok energia presente misuriamo che ci sia abilitazione quindi l'enable sia fronte alto e in questo caso andiamo sul piedino numero 7 è molto delicato da fare sì quindi l'integrato è abilitato e abbiamo poco meno di 26 volte anziché 26 volte e mezzo quindi è possibile che stia lavorando l'integrato rimane solamente misurare l'uscita che è il piedino numero 1 2 terzo piedino quindi andiamo a misurare anche l'uscita e in uscita cari amici non abbiamo niente morto misuriamo sotto il condensatore di uscita infatti sotto il condensatore di uscita non abbiamo niente quindi in questo punto qua di conseguenza mi viene da pensare che non ci sia nemmeno alimentazione in uscita agli 11-17 infatti non c'è niente e sempre di conseguenza mi aspetto anche che in ingresso all'11-17 non ci sia niente e infatti non c'è niente proviamo anche quest'altro niente niente totale proviamo sotto gli condensatori dell'altro piccolo stabilizzatore di tensione niente non c'è niente proviamo anche l'altro condensatore niente scantiamo la spina allora niente cari colleghi presumibilmente guasto questo integrato qui che poi tra l'altro sto cercando di capire se magari scalda e non scalda comunque niente e non sento calore nemmeno sotto gli altri componenti di stabilizzazione di tensione a che punto siamo cari colleghi abbiamo potuto appurare che lo stabilizzatore di tensione principale di tutta quanta la scheda madre è risultato KO e questo deriva dal fatto che un suo sottoposto quindi quest'altro piccolo stabilizzatore di tensione ha una bassissima impetenza fra ingresso e uscita e questo non è un bene perché poi a ridosso di questo stabilizzatore ci sono altri integrati e altre cose che potrebbero aver subito danni abbastanza importanti si potrebbe anche fare un tentativo di rimontaggio e di accensione se non fosse per il fatto che il 3482A riesco a trovarlo probabilmente in Cina mentre l'E7 a DJ sembra non essere in commercio quantomeno ci vorrà una ricerca molto più approfondita cosa peggiore che ci sarà scarsissima probabilità di successo visto che abbiamo un'elettronica molto delicata su questa scheda quindi il danneggiamento degli stabilizzatori di tensione potrebbe come abbiamo già detto pure prima potrebbe aver creato danni sulla logica generalmente cari colleghi questa volta la mettiamo in sconfitta purtroppo diciamo che per il momento non vado avanti anche perché il proprietario credo che ne abbia bisogno di questo apparecchio motivo per il quale con tutta probabilità ne acquisterà uno nuovo nel frattempo mi metto alla ricerca di queste parti di ricambio ma il tempo sicuramente inciderà molto per quanto riguarda la consegna spiacente cari colleghi ma ci fermiamo qua diciamo che questa volta siamo stati parzialmente sconfitti ma d'altro canto non c'è gusto senza perdenza se riuscirò a procacciarmi le parti di ricambio sicuramente faremo un tentativo ma ci aggiorneremo ad un nuovo video detto questo vi saluto vi ringrazio come sempre e da presto risentirci vi ringrazio come sempre